Lo studio è relativamente giovane perché l'abbiamo aperto io e Marco, il mio socio, nel 2007, quindi è relativamente da poco tempo, ma ci siamo sviluppati molto in fretta e nasce da un'idea mia e di Marco di unire, io lavoravo al tempo a Londra e poi lavoravo per un altro studio, lui ha una sua azienda, ci siamo ritrovati perché io e Marco ormai ci conosciamo dai tempi degli elementari, quindi è come un fratello e abbiamo deciso di aprire lo studio e eravamo solo io e lui, adesso siamo qua nella sede principale di Brescia, siamo in 14 e poi abbiamo altre sedi perché è grosso del lavoro l'80% all'estero in questo momento, anche se lavoriamo anche in Italia. Lo studio raggruppa un gruppo di architetti che tutti hanno la grandissima passione per quello che facciamo, infatti lo studio è nato dalla passione mia di Marco e abbiamo allargato poi anche altri architetti, questa famiglia e cerchiamo proprio di trasmettere questa passione ogni giorno in quello che facciamo e soprattutto ai nostri committenti, noi siamo sempre alla ricerca di committenti illuminati che hanno l'ispirazione nel fare le cose, non solo tanto per farle e unirci in questo percorso che è poi un progetto che spesso dura anni o mesi, comunque è un processo molto lungo e per noi è fondamentale assolutamente fare questo percorso con committenti illuminati, nel senso che ci permettano di crescere e di sviluppare. Lo studio si concentra fondamentalmente su alcuni valori principali che per noi sono fondamentali, che sono il made in Italy, lavorando all'estero, è molto importante, la selezione poi all'interno dei prodotti in Italy per i committenti, per ogni singolo progetto, attuiamo una grandissima selezione dei prodotti specifici per il progetto. Siamo in grado di gestire la complessità e quindi progetti molto complessi anche all'estero, quindi a distanza, e soprattutto la creatività, che ovviamente deve essere parte fondamentale del bello del progetto. Quindi questi sono poi i nostri valori che trasmettiamo ai nostri committenti. Senti, poi riguardo le vostre sedi, se non sbaglio, voi avete sede a parte a Brescia, quindi anche a Mosca, in Georgia, dove avete sede? La sede principale è qua a Brescia e la nostra prima esperienza estera è nata a Mosca, ancora quasi subito, dove abbiamo ancora ufficialmente l'ufficio e poi abbiamo sviluppato altre sedi, tra cui quella della Georgia, a Tbilisi, una sede che segue direttamente il mio socio Wismara a Cipro, che è una parte molto importante del nostro mercato. Io seguo la Georgia e anche poi stiamo lavorando in Ucraina, a Kiev, quindi come parti principalmente sono queste. Poi abbiamo lavorato anche in altri paesi, in Azerbaijan, in Libano, in Tunisia, però lì ovviamente non abbiamo aperto un ufficio per gestire questi mercati. Senti, per entrare un pochino nei progetti di 76, ci descrivi magari un progetto realizzato o se ti va che state progettando, che più di altri racconta un po' il vostro modo di fare progettazione? Un progetto che è quasi terminato, in realtà è ancora in fase di esecuzione, che mi piace diciamo così raccontare, è questo progetto che abbiamo realizzato in Georgia, in questo caso non a Tbilisi, ma a Batumi sul Mar Nero. Nasce da questa collaborazione con questo grossissimo gruppo di development locale, che sta investendo 250 milioni di euro in varie tipologie e strutture, e noi ci ha chiamati, questo è stato un orgoglio per noi, per realizzare questa torre, che sono cinquantina di piani, dove c'è all'interno una parte di hotel, il courtyard Marriott, e poi tutti gli altri piani sono tutte residenze, sono quasi mille appartamenti, è una località di mare, quindi sono appartamenti studio, studio flat piccolini, e lì noi abbiamo realizzato tutta la parte di interni, sia della parte residenziale che tutte le parti comuni, quindi reception, adesso stiamo terminando una parte della ristorazione, progetto molto complesso, molto grande, dove abbiamo curato non solo la parte progettuale, ma anche poi tutta la parte di logistica per le mock-up room, abbiamo realizzato anche la direzione artistica, e è molto rappresentativo proprio per il servizio che noi diamo ai nostri clienti, quindi che non è solo il singolo progetto, bello o brutto che sia, ma è poi tutto un servizio che noi diamo in modo da trasformare il progetto in realtà, questo diventa una parte direi fondamentale che spesso è sottovalutata come impegno per gli architetti. Assolutamente, però per quanto riguarda i vostri progetti, quindi voi si spaziate un po' da quello del residenziale, hotel, commerciale, internazionale, abbracciate un pochino tutto? Sì, noi abbiamo in particolare tre dipartimenti, che uno è sul hospitality and wellness, quindi hotel, abbiamo una forte specializzazione poi sui centri benessere spa, che noi nasciamo da quello, nella nostra storia, centri fitness spa. Abbiamo una divisione che è luxury, quindi tutti i progetti di altissimo livello legati a ville private, che è partito col mercato di Mosca, ma adesso tramite un po' ovviamente di vari contatti lavoriamo molto su questo tipo di mercati anche a Cipro. E poi abbiamo una divisione che noi abbiamo chiamato smart projects, nel senso che sono progetti più legati, che spaziano sia da la coppia appena sposata che deve rifare l'appartamento, per dire, ma anche tutte le collaborazioni che abbiamo con i grossi developer, che stiamo facendo come in Georgia, anche a Kiev abbiamo una collaborazione e anche a Cipro, dove noi realizziamo l'interior di queste torri che dopo di questi appartamenti che vengono messi in vendita. Quindi in questo caso il nostro cliente è il developer, non è il corso finale. Quindi abbiamo queste tre principali divisioni su cui sviluppiamo il lavoro. Certo, ma per quanto riguarda l'interno dello studio, ci sono delle specializzazioni diciamo di competenze tra le diverse aree, tra le diverse sedie, tra diverse persone all'interno del team? Come avviene? Allora, tutta la progettazione, il grosso della progettazione viene fatta qua nello studio principale di Brescia. C'è una specializzazione all'interno dei team, questo senz'altro, perché crediamo sia fondamentale per poter arrivare a dare il servizio necessario ai nostri clienti. Però non è una specializzazione con compartimenti stani, nel senso che credo assolutamente che sia poi fondamentale anche all'interno dello studio avere una contaminazione, uno scambio all'interno poi dei vari gruppi che hanno diverse specializzazioni. Quindi diciamo che c'è un mix bilanciato di queste cose. Certo. Senza, una tua riflessione su… voi siete uno studio, appunto, dedicato a progetti in larga scala, operate in tanti mercati, quindi vi percepisco come uno studio azienda, diciamo. Oggi si parla molto del ruolo dell'architetto che sta cambiando, è cambiato, quindi oltre ad essere architetto è ancora tutto più difficile perché deve essere anche imprenditore, quindi andare a cercarsi il mercato, sviluppare il proprio lavoro, eccetera. Una tua riflessione su questo e quali sono poi effettivamente le difficoltà? E da un punto di vista pratico ti chiedo anche come, di 73, come guarda i mercati, come gli osserva e in che modo cerca di essere attivo ogni mercato che decide di intervenire? Allora, riguardo al primo argomento, mi ha incentrato il punto nel senso che dal 2007, quando abbiamo iniziato a lavorare con Marco, sinceramente la trasformazione della figura dell'architetto in così poco tempo è stata enorme e noi abbiamo dovuto seguire questa trasformazione, abbiamo voluto, siamo stati anche molto bravi nel farlo, perché ormai l'architetto, il disegno è fondamentale, ma deve diventare un imprenditore a tutti i livelli, proprio per la difficoltà del mercato, immaginiamoci ora con queste nuove prospettive che si apriranno, sarà tutto un punto interrogativo. Noi come studio, in particolare, da ormai un anno e mezzo abbiamo poi intensificato questo sviluppo da studio ad azienda, vero e proprio, grazie anche alla collaborazione di laboratorio commerciale, che è il Gabrielian Partners di Trento, che ci sta seguendo proprio in questa trasformazione dove stiamo ridefinendo organigrammi, processi, flussi di decisioni, tutta la parte anche finanziaria, quindi tutta la parte di comunicazione, marketing, quindi lo studio si sta già trasformando proprio in un'azienda e credo che questo sia stata un'esigenza che io e Marco abbiamo sentito proprio perché sentivamo la possibilità di crescere, avevamo tutte le conoscenze, i contatti per farlo, ma eravamo arrivati a un punto che dovevamo fare un salto e questo credo che per la figura dell'architetto sia fondamentale. Deve essere fatto e anche non è facile perché ti metti in gioco, quindi devi uscire dalle tue zone comfort, pensare di dire so poco, devo imparare ancora tanto e cominciare a farlo perché ti cambia proprio la prospettiva, i punti di vista, quindi questo devi volerlo e noi lo stiamo facendo tutti in studio, dal primo all'ultimo e di questo sono molto molto contento perché ci stiamo mettendo tutti in gioco per crescere, è una cosa fondamentale. È un'esigenza reale, attuale, che devi assolutamente… Sì, non scontata però, non è scontata perché è una decisione difficile, impegnativa anche dal punto di vista economico, perché richiede una trasformazione importante anche da quel punto di vista, ma soprattutto è un salto mentale. Esatto, è un salto mentale quello. Poi per riguardo al discorso dell'approccio ai mercati, credo per noi è fondamentale ormai quando si dice i famosi B2B, business to business, io credo che ormai siamo a human to human, ormai il rapporto con le persone è talmente fondamentale per costruire il proprio business. Questo è bello, è fondamentale. Sì, è fondamentale. A maggior ragione al giorno d'oggi, dopo che abbiamo passato, stiamo passando questa esperienza in cui stiamo vedendo l'importanza del rapporto tra le persone. Quindi anche nei mercati esteri noi ci muoviamo sempre con la presenza, perché ad esempio Marco fisicamente, ad esempio Cipro è un mercato importante e abbiamo preso questa decisione, lui è stato molto in gamba e bravo a trasferirsi in questo momento a fare come base principale a Cipro per sviluppare il mercato là. Io viaggio parecchio, abbiamo poi sviluppato anche delle collaborazioni con degli architetti locali che lavorano proprio per noi, proprio per avere il costante controllo delle relazioni day by day dei clienti locali che hanno bisogno di sapere che ci sei anche se si sente. Quindi direi che tutto parte dallo sforzo di costruire proprio questo tipo di relazione personale col cliente, con i collaboratori, con i partner. Questo diventa ormai fondamentale. Comunque concordo con te appunto, la relazione personale è fondamentale, però anche l'approccio mentale, la predisposizione mentale a fare queste cose credo faccia la differenza tra riuscire e non riuscire nel farlo. Ora ci sarebbero tante altre cose che cerco di stringere, ci sono delle domande appunto da parte di chi ci segue. Carlo Marcucci credo che conosci. Assolutamente sì, anche lo saluto. Ci sta seguendo. Carlo chiede appunto, data la tua esperienza a Russia, a Giorgia, cosa ti senti di consigliare oggi alle aziende italiane per tornare ad essere appetibili in quei mercati? E secondo te che segnali sta ricevendo dall'est? I paesi del caucaso avranno sviluppo nei prossimi mesi? Ti chiedo altre domande e risposte magari brevi? Brevi sì. Allora le aziende italiane dipende molto dal mercato perché Carlo fa due esempi di mercati completamente diversi. Ad esempio in Giorgia io vedo ad esempio su questo progetto noi abbiamo dovuto mettere in concorrenza varie aziende. Ci sono i turchi, cioè ormai ci sono. Quindi il Made in Italy è ancora assolutamente apprezzato. Bisogna che le aziende riescano a bilanciare la qualità con il costo perché purtroppo in determinate tipologie, che non sia magari la villa privata di un certo tipo, tutta la parte di budget conta molto e sappiamo che la qualità ha un valore. Però ecco c'è questo difficile balance da cercare, non è facile. La seconda domanda mi ricordo… Quali segnali sta ricevendo dall'est? Ah, dal caucaso. La zona è molto interessante. Noi ci siamo concentrati principalmente sulla Georgia come mercato perché noi abbiamo lato sia in Azerbaijan, poi siamo venuti via dopo la crisi che ha avuto l'Azerbaijan e tutto. E noi ci troviamo molto bene in Georgia anche dal punto di vista culturale. Nel senso che comunque devi avere anche un certo tipo di affinità per riuscire anche a lavorare proprio per il discorso delle relazioni umane che abbiamo parlato prima. Grandissime potenzialità di sviluppo a Georgia, a livello soprattutto del turismo. Conosco un po' meno l'Armenia. Abbiamo iniziato anche a lavorare in Iran adesso, che non ti ho raccontato, tra l'altro con una splendida collaborazione di un cliente conosciuto in Georgia e anche lì credo che ovviamente in maniera completamente diversa perché lì ci sono le sanzioni e tutto, ma anche lì ci sono degli spazi. Bisogna andare lì e cominciare a lavorare. Noi lo stiamo facendo e credo che tutta l'area, se rimane stabile a livello politico, geopolitico, ha delle grandissime potenzialità. Senti, Lorenza Dalvera di Caldeva si sofferma sul video che ho visto anch'io, che è all'inizio del vostro sito web, dove dice c'è un po' un omaggio alla bellezza dell'Italia. Quindi dice come siete riusciti, traducete un po' il gusto italiano in contesti diversi all'interno dei vostri progetti. Ho un'altra domanda e poi ti faccio l'altra domanda. Ma quel video riflette l'approccio, perché abbiamo voluto fare quel video? Proprio perché i nostri clienti, che hanno culture completamente diverse e a volte trovi a scontrare anche persone senza cultura, diciamolo. Per fare la differenza noi volevamo trasmettere le nostre origini, perché sono le nostre origini di quello che abbiamo respirato sin da piccoli, perché noi diamo scontate l'architettura, i monumenti, la cucina. Sono tutte cose per noi scontate perché le abbiamo sempre vissute, ma ci siamo accorti che all'estero in realtà non lo sono. Quindi a noi hanno influenzato la nostra vita, il nostro approccio, la nostra cultura e noi vogliamo trasmettere ai nostri clienti l'approccio prima che il progetto in sé. Quando loro capiscono la persona che hanno di fronte, è più facile costruire anche un rapporto di fiducia. E quindi è più facile, diciamo così, non sottostare esclusivamente a capricci del cliente che vuole A, poi B, poi C. Certo, ci sono questi tipi di clienti, ma noi cerchiamo di evitarli. Certo. Perché, ecco. Certo. Antonia di Crosetta di Tubes invece chiede cosa pensi, come saranno gli sviluppi futuri dei vostri progetti all'estero, all'estero, alla luce forse anche di questa situazione. Pensi ci sia senz'altro... Una bellissima domanda, nel senso complessa, perché siamo in una situazione in divenire. Noi attualmente non ci siamo mai fermati, stiamo lavorando, stiamo portando avanti i progetti, siamo in costante, nonostante da casa, in contatto con i nostri clienti e stiamo portando avanti le cose. Io credo che ci potrà essere una ripartenza come se nulla fosse, anzi, ancora più veloci di prima perché si vorrà recuperare il tempo perduto. Sicuramente sarà così, probabilmente, nei mercati che seguiamo noi. Quello che sicuramente noi vorremmo fare è riuscire a prendere questa esperienza che stiamo vivendo anche come una possibilità di approcciare in maniera diversa comunque anche il mercato che noi stiamo facendo, anche a livello proprio di approccio, senza dovere sempre correre, cioè dovremo sempre correre, ma dare dei valori ancora più forti ai nostri committenti per non essere sempre in balia dei loro capricci, perché spesso noi abbiamo clienti anche molto, molto difficili da gestire. Assolutamente. Poi avremo però già risposto prima, in parte Stefano Ruggi, dice Grame a Sant'Agostino, appunto chiedeva due parole sul vostro passaggio dal studio italiano a studio adesso internazionale, generalista appunto che opera in più i mercati, però abbiamo in parte… Anche lì è l'esperienza che ti porta poi, l'esperienza diciamo che lavorando, le collaborazioni, perché noi siamo diventati internazionali con l'esperienza prima di Mosca, è stato un grosso lavoro di tre anni, che è nato dalla collaborazione con un'azienda italiana, in cui avevamo un particolare rapporto e loro ci hanno chiamato noi per fare questo tipo di progetto. Quindi la collaborazione con le aziende italiane per noi è fondamentale. Noi siamo italiani, portiamo il Made in Italy, è una collaborazione che non è solo dal punto di vista tecnico del prodotto, di qualità, ma deve essere una collaborazione a livello di servizi e supporto. Partnership, insomma. Partnership, che è molto diverso da vendere un prodotto. Certo. Perché noi poi facciamo anche chiavi in mano adesso, stiamo sviluppando anche poi non sulla progettazione ma anche proprio la realizzazione. In un cantiere a Cipro stiamo facendo tutto da progettazione in direzione dei lavori, trasporti, logistica, vendita. E quindi capite che il rapporto con l'azienda, che diventa partner in questo processo, diventa fondamentale. Senti Andrea, per concludere, così cerchiamo di… Allora, ci sarebbero, ripeto, altre domande da fatti, ma cerchiamo di… Allora, concludiamo con, parli a nome di D-73, un libro, un film e la musica che ascoltate, insomma, suggerita da D-73. Prego. Allora, parto dal libro, che è un libro che ho letto non tanto tempo fa, che è Dialogo tra un Cinico e un Sognatore, che è un dialogo tra Oscar Farinetti, che tutti conosciamo, che è il Sognatore, e Pier Giorgio Di Freddi, un matematico, un cinico, e c'è questo dialogo molto particolare sui temi della vita, lo consiglio a tutti. Il film, invece, personale che adoro è Kill Bill, il Tarantino, che lo vedo dal punto di vista creativo incredibile. e come musica Drive On, che sono i Pajero Sunrise, che è particolare nel senso che ispira questa idea del viaggio, del continuo viaggio, che è un po' la metafora di quello che abbiamo iniziato io e Marco, che stiamo facendo adesso, ed è quello che continuiamo a fare al di là di prendendo aeree a destra e a sinistra. Adesso siamo fermi, ma siamo in un continuo viaggio anche dal punto di vista metaforico e spirituale, che è poi il bello che ci fa alzare ogni giorno di mattina senza essere annoiati. Assolutamente. Grazie. 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 Grazie.